segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuto andrea principe allora rettore della luis professore di organizzazione innovazione ha scritto insieme a massimo sideri il visconte cibernetico italo calvino il sogno dell'intelligenza artificiale per le edizioni naturalmente luis allora cosa hanno in comune italo calvino e l'intelligenza artificiale tante cose italo calvino è stato un grande innovatore e l'intelligenza artificiale una grande innovazione con numerose potenzialità italo calvino sperimentava e l'innovazione l'intelligenza artificiale necessita di sperimentazione per imparare a sfruttarla al massimo italo calvino aveva previsto l'avvento dell'intelligenza artificiale in un famoso scritto cibernetiche fantasmi ci ha detto che sarebbe arrivata una una macchina che avrebbe scritto romanzi invece di essere umani e quindi e poi è arrivata davvero che siano buoni e diversa diceva calvino bisognerebbe essere dimezzati come il visconte per capire il mondo perché forse per una provocazione perché calvino sosteneva che per essere per guardare il bello dell'intero era necessario guardarlo da angolazioni diverse e quindi essere a metà prometteva una prospettiva diversa e quindi anche più profonda tant'è che nel visconte dimezzato nel un incontro tra medardo il visconte medardo e il nipote calvino addirittura parla dell'ottusa completezza per sottolineare l'importanza di guadagnare prospettive altre calvino ne ha ne ha ne ha sviluppate diverse leggera di scienza si perde con un unico punto di vista e poi si parla neanche nel nel suo libro del metodo degli opposti cos'è il metodo degli opposti è il metodo che calvino è un pensiero che permea il l'intera opera di calvino nella fattispecie viene celebrata nella nelle lezioni americane perché calvino ad esempio ci scrive di leggerezza ma ci parla di pesantezza ci scrive di rapidità ma parla di lentezza ecco per noi per massimo sidere per me il metodo calvino questo metodo degli opposti è uno strumento per leggere la realtà che è sempre più complessa e quindi richiede come diceva poco fa diverse prospettive perché ci sono tensioni continue che caratterizzano le sfide attuali una su tutta l'innovazione o l'intelligenza artificiale calvino diceva anche bisogna essere leggeri e profondi non mischiava anche gli opposti sì era il suo pensione sempre stato molto trasversale appunto lui veniva da una famiglia di scienziati e si finiva l'unica pecora nera perché era un letterato e poi però recuperò allora arriviamo all'intelligenza artificiale lei dice può essere uno strumento importante per apprendere l'importante che si aggiunga e non sostituisca l'intelligenza artificiale va governata come tutte le grandi innovazioni non dobbiamo adattarci noi soprattutto per le potenzialità che ha questa tecnologia quindi dobbiamo cominciare a insegnare equipaggiare studentesse e studenti già dall'inizio dai primi passi quando cominciano a muovere i primi passi lungo la loro filiera educativa quindi dalla scuola in poi tutti dobbiamo acquisire quegli strumenti quelle competenze che ci permettono di sfruttarla di utilizzarla al massimo in profondità come si può usare anche nella formazione assolutamente sì non può non essere non può essere bandita non deve essere bandita ecco per tornare al discorso di poco fa è importante che noi si sperimenti continuamente l'utilizzo di questo strumento particolarmente potente allora calvino nell 81 diede un'intervista e disse tre talismani per il 2000 quali erano imparare le poesie a memoria fare i calcoli complessi a mano ed evitare la stradezza del linguaggio quindi quanto di più concreto da parte di un pensatore assolutamente perché ci permette ecco questi due elementi che sono tutti i primi due che noi si pensa possono essere giustamente diciamo così coperti da dall'intelligenza artificiale calvino ci indica la strada e ce ne dobbiamo continuare a avere memoria continuare a avere questa abilità questa capacità di saper calcolare a mano anche calcoli complessi questo perché soltanto in questo modo noi riusciamo a governare quello che ci viene offerto dall'intelligenza artificiale voi parlate di divorzio definitivo tra informazione e fonte che vuol dire vuol dire che dobbiamo continuare ad alimentare ad affinare la nostra intelligenza dove per intelligenza significa saper leggere in profondità leggere tra le righe dei pensieri che ci offre le risposte che ci offre l'intelligenza artificiale il visconte cibernetico andrea principe grazie